Ciao, sono Chiara. Oggi sono qui per raccontarti che cos'è il 5x1000, a che cosa serve e perché dovresti donarlo ad Alice for Children. Il 5x1000 non è altro che una quota delle tue tasse, più precisamente una quota dell'IRPEF, che lo Stato ti permette di dedicare a una delle associazioni che ti stanno più a cuore. Per te quindi il 5x1000 non ha nessun costo aggiuntivo, è un modo gratuito per contribuire a una delle associazioni a cui sei più legato. Se decidi di non destinare a nessuno il tuo 5x1000, questa somma di denaro rimarrà nelle casse dello Stato. Il 5x1000 rappresenta una vera e propria opportunità, ma negli ultimi anni si sta assistendo a una diminuzione di contribuenti che decidono a chi destinare il proprio 5x1000. Forse perché si pensa che il proprio 5x1000 non possa fare la differenza, ma proprio in questo tipo di donazioni è l'unione che fa la forza. L'importo medio del 5x1000 ad Alice for Children negli anni scorsi è stato circa di 45 euro. Immagina cosa potremmo fare con solo 1000 firme, una piccola parte dei nostri donatori annuali. La modalità per donare il 5x1000 è molto semplice, è infatti una procedura legata alla dichiarazione dei redditi. In tutti i moduli 730 o certificazione unica è presente una sezione dedicata intitolata scelta per la destinazione del 5x1000. In questa sezione è necessario inserire il codice fiscale dell'associazione o ente a cui si è deciso di destinare il proprio 5x1000. È possibile esprimere una sola preferenza e il campo in cui inserire il codice fiscale è unico. Per donare il tuo 5x1000 ad Alice for Children ti basterà segnalarlo al commercialista o all'operatore del CAF che ti seguirà durante la tua dichiarazione dei redditi e firmare l'apposita casella sostegno alle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale. Se invece compili la tua dichiarazione dei redditi in autonomia sul sito dell'agenzia delle entrate ti basterà inserire il codice fiscale di Alice for Children nell'apposito comparto. Adesso che ti ho spiegato che cos'è il 5x1000 e come funziona, vieni a scoprire con me perché dovresti donarlo ad Alice for Children. Ci troviamo ad Alice Baby Care, il nostro asilo nido all'interno della baraccopoli di Corrogocio. Venite con me a scoprire di che cosa si tratta. Alice Baby Care è un progetto che è nato nel 2017. È un asilo nido all'interno della baraccopoli di Corrogocio, vicinissimo all'ingresso della discarica di rifiuti di Dandora che dà lavoro a moltissime persone che vivono negli islam. Molte di queste sono mamme di bambini piccolissimi ed erano costrette a portarle con sé all'interno della discarica per lunghissime giornate di lavoro. Alice Baby Care è uno dei pochissimi asili nido presenti all'interno di un islam, un luogo sicuro per tutti i bambini che vivono all'interno delle baraccopoli. Ogni bambino riceve una dieta adeguata, composta di quattro pasti al giorno. Una dieta ricostituente perché molti di loro arrivano in condizioni gravi di malnutrizione. Alice Baby Care è uno spazio in cui tutti i bambini possano crescere e giocare e il 5x1000 di quest'anno sarà destinato ad allargare la struttura per accogliere finalmente nuovi bambini. Non sai ancora a chi destinare il tuo 5x1000? Donandolo ad Alice Poor Children darei modo a sempre più bambini di essere accolti in un luogo sicuro dove crescere e giocare.